salve raga allora mi sono visto un video di massimo polidoro l'ha fatto ieri l'altro ieri per due giorni ha fatto e racconta di puma punka che sarebbe un sito archeologico che sta in america del sud in bolivia vicino al confine con il cile peru insomma da quelle parti là e questo sito molti lo conoscono un sito molto antico sito archeologico molto antico e si parla di c'è qualcuno che dice che sa 600 800 anni prima di cristo qualcuno addirittura ha 17 mila anni addirittura 12.017 insomma io poi c'ho tutto quanto sotto la tutta la cosa in descrizione che ve lascio scritto per capire se uno gli può interessare sta storia di cosa racconta massimo polidoro che lui c'ha un suo canale racconta secondo me ha raccontato un sacco di bagianate non lo so per quale motivo racconta queste 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 dicerie false perché lui ha raccontato il falso su sto sito come poi tante volte molti ce ne escono sul fattore degli ufo io ho detto che queste queste tecnologie questa roba qua in quei tempi antichi potevano essere solo costruite da da esseri superiori neanche da civiltà avanzate che nel senso in quei periodi civiltà avanzate non esisteva non c'erano civiltà avanzate come come si presume anche nel fatto delle piramidi e altri siti archeologici nel senso che hanno una datazione molto antica e all'epoca non c'erano queste non c'erano attrezzature e cose per poter fare certe certe cose non esisteva e poi fare così perfette e allora lui se ne è uscito con poche parole che è falso tutto quello che dicono sul fattore che possono essere stati gli alieni a darci una mano cosa che io dico spesso perché non non è possibile costruire certe certe cose se non hai avuto un qualcuno che ti ha dato una mano un aiuto perché c'è il problema di questo sito che tante volte abbiamo parlato pure delle piramidi di questo sito soprattutto che si trova a 4000 metri d'altezza d'altitudine il sito e le rocce le andava a prendere a 60 km di distanza le rocce quelle che poi venivano posizionate per farci il sito dove nasceva questo sito a 60 km di distanza dovete pensare che allora a 60 km di distanza manco la ruota esisteva e lì non è che poi fa camminare i tronchi come magari tanti hanno detto che su nel senso nel che tu magari in egitto usavi i tronchi per trascinare o magari bagnavi la sabbia lì no lì è tutta montagna lì è in casino in montagna non è che poi te puoi inventare storie strane non te le puoi inventare perché un sito che sta a 60 km dove venivano tagliati i blocchi portati fino a là cioè come come fai la ruota non esisteva non c'era la ruota non c'era nulla che poteva farsi portare quei blocchi che pesavano molte tonnellate come facevi è impossibile allora loro dicono che invece politoro dice no che c'è stava c'è un sistema hanno avuto dei sistemi loro e lui dice soprattutto per non dire quello che loro avevano gli antichi dice soprattutto che non si trovano reperti storici perché qui si basa tutto sulla scienza perché è basato tutto sulla scienza che ci sono le prove lui dice no ci vogliono le prove ma alle prove lui dove stanno le sue prove che all'epoca non c'era c'era manco il ramo c'è stava se può dire non c'era il ramo non c'era nulla cioè tu a fare quelle scannellature andate a vedere voi guardate nel sito puma punca e guardate proprio come sono fatti e squadrate fatte migliaia d'anni fa che questi siti erano questi blocchi erano fatti di granito e di orite che sono materiali molto duri che per tagliarli ci vuole veramente per tagliarli ci vuole per tagliarli come si dice in gergo invece lui ha detto che sono di arenaria ha detto una 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 cialtronata arenaria che non è vero nulla l'arenaria si trova a livello del mare l'arenaria si trova più o più delle volte a livello del mare sarebbe l'arenaria è un composto di roccia che si aggrega con la sabbia con l'acqua con la sabbia e il vento che poi solidifica però non è una non ha una durezza cioè questi blocchi questa roba qua se fosse veramente come dice lui da arenaria a quest'ora si sarebbero già sgredolati perché con l'intemperie con quello che sia se si sgredolavano cioè non sarebbero rimaste così belle intatte abbastanza intatte sono e poi non solo come ho detto ci sono dei punti che ci sono delle scannellature che sono fatte ci vuole per forza una macchina per fare certe cose fatte in quel modo la c'è una macchina perché non è che tu ti metti con uno scalpellino che all'epoca manco esisteva questo scalpello o questo famoso martelletto questo non esisteva come potevano aver fatto una cosa del genere come avevano potuto tagliare dei blocchi a 60 chilometri trasportarli magari che pesano anche 20 30 50 tonnellate 100 tonnellate ma come fai a portarli da 60 chilometri che non c'hai manco lì poi in quella zona lì non esistono manco i boschi che dici taglio i tronchi puoi tagliare i tronchi trasportarli come facevano come dicono gli egiziani mettevi con i tronchi li faceva andare così come fai a portarli in mezzo a un casino della madonna a mezzo alle rocce immaginate e io come sono qui che tutto diciamo anche se non sono altre le montagne però è roccia provato a trasportare una cosa del genere diventa impossibile non posso non puoi trasportarla cerco come hanno fatto coloro a trasportare queste cose poi farle perfettamente precise cioè poi addirittura c'è stanno dei blocchi che sono fatti proprio a incastro vanno proprio in castro perfetto perché uno deve dire queste bagianate queste stupidaggini quando non è vero dice non si sono trovati i reperti che dimostrano che sono stati gli esseri umani la civiltà umana manco quella hanno trovato che hanno trovato qualche bastoncino qualche cosetto ma manco allora la datazione io mi metto sotto poi perché ci sono degli ingegneri degli archeologi che avevano calcolato una datazione di 17 mila anni fa addirittura e poi è stata riguardata e fatta solamente che la datazione della della pietra non si può fa però loro hanno calcolato in base a quello che hanno scoperto lì che risalgono almeno a 12 mila anni fa queste pietre sto sito perciò 12 mila anni fa cioè cioè all'epoca se oggi andiamo a guardare in quei posti là se scendete a 500 chilometri in basso se voi superate le montagne le ande perché lì dopo ci stanno le ande lì punto alto poi andate avanti ci stanno le ande scendete giù che le ande arrivano fino a 6 7 mila metri scendete giù vi fate andati 300 chilometri a basso e trovate già gli indigeni ci stanno ancora gli indigeni ci sono ancora gli indigeni dell'amazzonia cioè ma di che cosa parliamo se ci stanno ancora oggi l'indigeni là se non fosse arrivato l'uomo quando è stato con cristoforo colomba che abbiamo cominciato a colonizzare lì a portare veramente l'europa la razza europea insomma che sono andati lì hanno conquistato quello che hanno fatto poi vabbè lasciamo perdere poi hanno ammazzato un sacco cioè questi se erano tecnologicamente avanti avrebbero distrutto cristoforo colombo e compagna bella l'avrebbero ammazzato invece sono stati presi e addirittura resi schiavi pensate che che intelligenza che potevano averci questi qua stessi soggetti qua immaginate 12 mila 17 ma anche 600 800 anni come presumono certi archeologi che tirano l'acqua al loro mulino certi archeologi come facevano come potevano fare cioè anche 800 anni prima di cristo a fare questi che non c'è stava nulla non avevano manca il rame era stato appena scoperto il rame che poi da quella parte non si sa manco che addirittura hanno detto che venivano incastrati c'è stanno dei punti che sono stati incastrati con col vabbè con il c'è sta anche il oddio non mi viene in mente comunque vi lascio tutto sottoscritto in descrizione che per filo e per segno così capite bene quello delle cialtronate guardate il video suo però vabbè parla pure di altro lui per altre cose ma secondo voi no io dico una cosa io quando ti parlo ho parlato ma anche nei video qualche video fatto qualche parecchie live ho sempre detto che dal mio punto di vista per logica quel tipo di ricostruzioni non potevano essere fatte dall'uomini all'epoca perché non avevano né i materiali né i mezzi né la tecnologia non ce l'avevano perciò qualcuno ci ha dato una mano qualcuno che viene dal cielo è normale non potevano essere gli esseri umani dell'epoca cioè i cristiani dell'epoca che facevano queste cose qua è impossibile ci hanno dato una mano perché se voi andate a guardare questi siti molti siti nel mondo più o meno in quei periodi venivano costruite quelle cose in america in africa in asia c'è c'è stanno questi siti dove loro magari questi essere interessi arrivavano hanno dato moto hanno fatto sì in modo che hanno dato hanno portato un qualcosa per dire guardate si costruisce così fate costruire una casa così gli spiegavano più o meno come funziona come se vai a scuola che tu stai lì davanti al professore il professore ti insegna come devi fare una certa cosa la stessa cosa hanno fatto gli alieni insegnare perché se no se non fossero arrivati gli alieni non a quest'ora saremo ancora a Roma all'epoca dell'antica Roma cioè loro è quello qua loro come ho sempre detto vengono qui e ci danno un aiuto piano piano ce lo danno un aiuto è inutile che ci giriamo intorno ha detto una marea di cialtronate questo signore una marea pur di negare che magari che non sono gli esseri interessi che loro chiamavano gli antichi divinità che davano tante ci sono tanti scritti reperti questi sono i reperti veramente quello che che riportano che hanno constatato che c'erano divinità che scendevano sulla terra venivano con con oggetti luminosi con sta roba qua e pensavano che fossero divinità capito è questo è no che politolo se ne esce che dice che quei blocchi sono fatti da renari a cazzata mastodontica sono di diorite e di granito che il granito è molto duro molto duro cioè di che cosa stiamo parlando ma veramente ma perché uno deve far passare per deficienti a noi cioè io è quello che non capisco questo ci fa passare per scemoniti a noi quando lui poi magari con qualcuno che magari gli dà pure retta cioè gli dà pure ragione cioè tu uno si deve fare allora uno deve farsi un ragionamento logico allora partiamo dal presupposto che ci hanno migliaia di anni parti dal presupposto che vengono presi in una cava di 60 chilometri blocchi grandissimi staccati dalla cava intanto per rispiegare come li stacchi dalla cava e li porti là in mezzo a tutte le montagne tutto quel casino che c'è faccio un esempio tu che vivi in abruzzo no tu vivi in abruzzo vivi nelle alpi pensate le alpi la media dei 3.000 4.000 metri il monte bianco monterosa che superano i 4.000 metri tu è come se tu cammini su sulle montagne o sulle le appennini e devi portarsi blocchi giganteschi te li devi incollarlo come cazzo li può come li porti come li trascini come li può per 60 chilometri come fai ma come fai mi devi spiegare come fai cioè già qui devi pensare come hanno fatto questi senza i tronchi e poi lì non è che ci stanno alberi diciamo che zona un po desertica montuosa non ci stanno alberi come ho detto non è dice sai ve le palme li trascinavano così o magari usavano come come c'era mancata ruota non esisteva mancata ruota cioè tu li parti dal presupposto intanto come li tagli intanto come li porti e poi come li posizioni ce l'hai queste grandi gru che sollevano questi grandi massi che pesano tonnellate ma ce l'hai cioè lui dice con gli argani ma non c'era manco che fai con la canapa non c'era manco la canapa perché ti andai nell'amazzonia per trovare la canapa dovevi partire fate quasi mille chilometri cercare la canapa fate queste grandi funi portate lì e fai tutto ma non diciamo stronzate non diciamo cioè uno deve partire da questo deve pensare come hanno fatto come potrebbero aver fatto questo devi pensare non è che non ci stanno i resti non si sa perché non si è trovato nulla di extraterrestre è normale che non trovi nulla di extraterrestre perché se io ho un disco volante che vi faccio un esempio ho un laser che taglia perfettamente il blocco e con l'antigravità se lo porta via e lo posiziona dove lo devi posizionare e il problema è risolto non è che tu non so quanti migliaia di uomini ce l'hanno per farsi un lavoro già si parla delle piramidi che quello che dicono l'altra cazzata ma immaginate là che è ancora peggio il terreno impervio poi l'ossigeno a 4.000 metri d'altezza l'ossigeno è molto meno cioè faticare a 4.000 metri non è come faticare a livello del mare cioè capito quello che voglio dire questi questi sparano così tante stronzate che io veramente a volte non capisco come fa certa gente a seguire un personaggio del genere che spara queste bagianate no perché la comunità scientifica devi dimostrare che tu devi portare questo ma tu me li devi portare mi devi far capire come hanno fatto che non avevano manco gli attrezzi il ferro non c'era il rame non c'era non c'era nulla come li tagliavi come li scavi come li preparavi ecco quando io dico a ragazzi bisogna ragionare di cervello e per logica capire certe cose la logica fa capire come magari poteva essere possibile costruire queste cose come far tutto questo a stambaradam come lo fa il stambaradam perciò io ripeto questo signore spara solo cavolate dice solo cavolate pur di non ammettere che magari hanno fatto gli extraterrestri ma prova extraterrestri lui dice che non ce ne sono non ce ne sono migliaia di prove extraterrestri che abbia i dischi volanti ma solamente una cosa che i dischi volanti ce li hanno i governi li hanno nascosti non ce li mostrano perché tengono tutto nascosto è normale ma prima o poi uscirà fuori sta roba qua dovrà uscire fuori prima o poi io ho sempre detto il problema perché non fanno vedere tutta sta roba qua non dicono che esistano messa del resto e che magari i stati tipo stati uniti o magari la russia sanno così come si scombinano se sentono con loro e avranno fatto un patto diciamo che magari ecco non possiamo far vedere perché loro siccome lo veniamo da duemila anni di religioni duemila e passa anni di religione la gente creda le religioni e pensa che la religione cattolica ai protestanti buddhisti chi più ha più le metta che magari erano era gesù cristo magari questi signori che magari hanno hanno cambiato il mondo nel modo da dare di far presente le loro religioni no e se tu gli vai a dire che questi qua gesù cristo erano extraterrestri ti dicono ma che sta pazzo o magari le dicono che ne so buddha erano extraterrestri ipotesi no maometto sta roba quanto cioè la gente come come se ne esce è normale che non siamo pronti ecco perché non non ne parlano i governi tengono nascosti anche se la gente molte persone sono svegliate perché tanti oggetti che abbiamo visto migliaia di oggetti volanti ma io ho sempre detto ne basta uno che è stato classificato per vero basta uno è quello che fa capire che gli extraterrestri esistono basta un velivolo non ne servono milioni che anche se sono stati milioni di avvistamenti in tantissimi anni ne basta uno uno solo che è la prova che viene da un altro mondo ne basta uno non milioni perciò politolo dice sempre un sacco di cazzate lui lo fa non lo so perché lo fa però secondo me sbaglia perché a dire queste cose significa fare il lavaggio del cervello a chi magari è più avanti di lui di cervello sicuramente perché basta usare la logica per capire certe cose non ci serve tutta sta sta scienza o magari come dice lui la comunità scientifica dice questo quelli l'archeologia di conseguenza quello no basta capire vedere il sito andate a vedere il sito basta quello c'è uno se ne rende conto come hanno fatto questi come dico sulle piramidi e su altre cose come hanno fatto in quel tempo che non c'era nulla per trasportarli come hanno fatto tutto qua ora vi metto tutto in descrizione e poi vi rendete conto che è come dico io no come dice pollo d'oro pollo ciao raga ciao